Si ricomincia con i tamponi rapidi, gli antigenici. Silvia Chiassai dopo l'esperimento dei mille, ne sono arrivati 6.000 e voi grazie alla Croce Rossa, la parte militare diciamo così, vi sta dando una grossa mano. Quindi qui ci sono le file, le persone arrivano, i test sono gratuiti. Assolutamente sì, ormai è da novembre che facciamo tamponi rapidi, grazie alla generosità e al scarificio che il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana fa regolarmente. Diamo l'opportunità di prenotarsi online a tutti i cittadini di Montevarchi, nel giro di poche ore hanno la risposta direttamente via mail. Nel caso di positività viene contattato il cittadino, il medico curante e gli viene prescritto naturalmente il tampone molecolare. Il test è gratuito grazie alla raccolta fondi che abbiamo istituito durante il lockdown, quindi i cittadini di Montevarchi aiutano la loro comunità, facendo uno screening importantissimo, rivolto naturalmente a tutti ma in particolare agli studenti e in questo caso anche agli studenti delle scuole superiori. Quindi abbiamo accolto anche i ragazzi appartenenti ad altri comuni. Per cui l'abbiamo fatto volentieri per essere un pochino più tranquilli, per provare a passare anche un po' di tempo con i genitori e con i parenti. Tra qualche giorno, se potessi, dovrei rivedere la mia ragazza e quindi per precauzione mi sembra giusto sapere appunto questo risultato perché anche la mia ragazza viene da un'altra regione e quindi appunto mi sembrava giusto una precauzione.